Musica Nel 2013 Marin GNC ha raggiunto un traguardo importante, ha raggiunto i 60 anni di attività nel settore del riempimento e del packaging. Proprio dal 1953 l'azienda ricerca le migliori soluzioni tecniche per la produzione di macchine riempitrici e linee complete per l'imbottigliamento dei liquidi. Tra gli obiettivi primari si posiziona sempre la massima soddisfazione del cliente. L'azienda tende a dare risposte concrete ed ottimali ad ogni specifica esigenza. Questo è reso possibile dalla profonda competenza del personale, dei collaboratori e della serietà che caratterizza ogni attività messa in campo da Marin GNC nel corso degli anni. Il focus delle produzioni aziendali va ricercato nella semplicità. Ogni macchinario progettato e messo sul mercato vuole essere facile da utilizzare e questo ne garantisce il valore aggiunto. Tutti gli impianti firmati Marin GNC sono conosciuti ed utilizzati in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Una delle novità proposte dall'azienda proprio in occasione di Cosmoprof 2016 è Cosmolin, la linea di riempimento automatico volumetrica con 4 flussimetri in linea. Il funzionamento è caratterizzato da un riempimento dall'alto con regolazione di velocità tramite inverter. Il prodotto è dotato di nastro di alimentazione bottiglie. La linea Cosmolin garantisce una produzione di 1200-1400 pezzi all'ora. Superati 60 anni di attività, oggi l'azienda punta a migliorare ogni fase del servizio offerto ai clienti per proporre soluzioni sempre più adatte ad ogni esigenza in termini di efficienza e di qualità. Grazie. Grazie.